Vaccino Valneva. Cosa sappiamo? Efficacia ed effetti indesiderati. Introduzione. Come accaduto anche per tutti gli altri vaccini anti-Covid, Pfizer, Novavax, AstraZeneca ed altri, anche questo vaccino siamo ormai abituati a chiamarlo con il nome dell'azienda produttrice più che con il suo nome effettivo, che è in effetti ad oggi un po' criptico, VLA2001. Valneva è un'azienda biotecnologica, sito ufficiale, con sede a Saint-Herblain, nel nord-ovest della Francia, mentre i siti di produzione sono distribuiti tra Europa, Canada e Stati Uniti. Se non è cambiato nulla, questo vaccino in particolare dovrebbe essere prodotto in Scozia, per poi essere predisposto nei flaconi definitivi in Svezia. Di questo vaccino se ne parla molto ma ad oggi, febbraio 2022, non è di fatto ancora disponibile. Ma perché allora se ne parla così tanto? Perché in alcuni ambienti si avverte quasi una sorta di spasmodica attesa verso questa formulazione. Cosa cambia rispetto ai vaccini già disponibili? Come funziona? VLA2001, questa la sigla con cui viene indicato il vaccino Valneva, dovrebbe indurre la tanto agognata immunità verso il SARS-CoV-2 mediante l'inoculazione del virus intero inattivato ucciso, incapace quindi di innescare la malattia, ma in grado di farsi riconoscere come entità estranea all'organismo e per questo produrre la risposta immunitaria nel paziente. L'idea, comune peraltro a qualsiasi vaccino per definizione, è quindi quella di far vedere all'ospite il virus, o una sua parte nel caso di altre formulazioni, per fare in modo che ad un successivo eventuale contatto nel mondo reale con il virus attivo non ci sia bisogno di attendere per osservare lo schieramento di tutte le armi di difesa di cui possiamo disporre, in quanto minaccia già conosciuta e nota. Semplificando e, come mia abitudine, banalizzando anche un po', possiamo dire che vaccini a mRNA, come Pfizer e Moderna, optano per l'introduzione delle istruzioni necessarie a far produrre pezzi caratteristici del virus dall'organismo stesso, che poi le riconoscerà come estranee. Vaccini a vettore virale, come AstraZeneca e Johnson & Johnson, si servono di un virus privo di qualsiasi azione, salvo la capacità di portare materiale genetico in forma di DNA all'interno delle cellule, che di nuovo produrranno autonomamente pezzettini di SARS-CoV-2. Vaccini a subunita, come quello di Novavax, che contengono il pezzettino di virus già belle che pronto. Vaccini con il virus inattivato, come Valneva, che anziché contenere solo un pezzettino del virus, lo contengono intero, ma morto. Tra gli esempi che ci sono più familiari di vaccini inattivati c'è anche l'antinfluenzale tradizionale, più precisamente in questo caso un vaccino split inattivato. Quando arriva in Italia? Il vaccino ha superato le sperimentazioni di fase 1 a 2, necessarie a chiarire innanzitutto la sicurezza del farmaco, fase 1, e solo successivamente l'efficacia, fase 2, ma tendenzialmente ancora con un numero di pazienti relativamente ridotto, 153 nel caso in esame. La fase successiva, fase 3, è invece quella in cui si cerca di tirare qualche conclusione attraverso la somministrazione ad un numero decisamente superiore di soggetti, 4.000 adulti e più di 600 adolescenti in questo caso, in cui tuttavia circa un terzo ha ricevuto l'AstraZeneca come termine di paragone. Lo studio ha permesso di dimostrare una buona risposta dei pazienti ed un'altrettanto buona tollerabilità. Purtroppo lo studio è stato condotto tra estate ed autunno, quindi sostanzialmente su variante delta, anche se è ragionevole aspettarsi un'efficacia più che ragionevole anche verso la Omicron, almeno in termini di prevenzione da ospedalizzazione e morte. Proprio relativamente ad Omicron sul sito ufficiale i rappresentanti di Valneva scrivono che i partecipanti che avevano ottenuto le tre dosi hanno mostrato una buona risposta anche verso quest'ultima variante. Attualmente il vaccino Valneva è il Rolling Review, uno strumento regolatorio di cui lema, l'Agenzia Europea del Farmaco, si serve per accelerare la valutazione di un medicinale o vaccino che risultino particolarmente promettenti durante un'emergenza sanitaria pubblica come è questa pandemia. La differenza rispetto al normale iter consiste essenzialmente nel fatto che è possibile, per le aziende, presentare i dati man mano che questi diventano disponibili, anziché tutti insieme come prevederebbe il percorso standard. Qualcuno lo definirà un altro vaccino rilasciato per la sperimentazione di massa ma, premesso che non sono d'accordo, ma non voglio annoiarti spiegando nel dettaglio in cosa consiste la fase 4 di sperimentazione di qualunque farmaco, a meno che il vaccino non lo vogliamo tra qualche anno questa è l'unica strada percorribile. L'azienda si aspetta di vedere approvato il vaccino nel primo quadrimestre del 2022, quindi entro la fine di aprile. Vedremo. Effetti indesiderati È decisamente presto per avere un quadro definito e soprattutto definitivo dei possibili effetti collaterali legati al vaccino, ma da quello che è emerso nello studio di fase 3 sembra che la tollerabilità sia superiore al vaccino AstraZeneca, il termine di paragone che si è usato nel gruppo di controllo. Soliti fastidi nel sito di iniezione, rossore, gonfiore, dolore sul braccio per circa 3 pazienti su 4, disturbi sistemici per circa 7 pazienti su 10, come potrebbero essere ad esempio mal di testa, dolori muscolari, stanchezza, nausea, dolori articolari, una sensazione generale di malessere, febbre, mentre non si sono registrate reazioni gravi e meno dell'1% dei partecipanti allo studio ha riportato effetti collaterali di particolare interesse. Altre informazioni. Il regime di somministrazione prevede due dosi a distanza di 28 giorni, ma come abbiamo detto è già stata esplorata anche la possibilità della terza dose booster. Conservazione alla normale temperatura dei frigoriferi, 2,8 gradi centigradi. Grazie. 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 Grazie.